E sono arrivate le scuse istituzionali del Presidente del Consiglio, Leila Montagnino. Sono arrivate all'indirizzo della città e del Consiglio Comunale per aver proferito una frase in fausta se vuoi fare terrorismo iscriviti all'ISIS all'indirizzo del Consigliere Comunale di Forza Italia, Calogero Adornetto. Scusa istituzionali appunto, forse non eccessivamente sentite, ma soprattutto tardive. Troppo tempo è passato rispetto al momento in cui il fattaccio è accaduto, nel chiuso di una stanza. Tempo che ha permesso agli altri della politica di mettersi in mezzo, prendere posizione, commentare, chiedere delle dimissioni della Montagnino, un passo indietro e una serie di considerazioni che hanno creato il caso politico. Fermo restando che alla città e ai cittadini nulla importa di cosa accade nelle segrete stanze del potere, se non si progetta per il bene della comunità. Se una cronaca si deve fare, una lucida analisi, c'è da dire che la solidarietà nei confronti della seconda carica della città è stata latitante. Se si toglie il PD con una presa di posizione di ufficio, predi e scuse della stessa protagonista della vicenda, poi nessun altro soggetto politico che compone la maggioranza del civico consesso ha voluto spendere una parola. Neanche il polo civico, dal quale ci si sarebbe aspettata una levata di scudi, non fosse altro per un doubt desse rispetto alle difese prateali e alla tutela che la Presidente in un anno e mezzo ha dato al Sindaco e per le quali è arrivata anche a questa situazione di rottura con il suo Consiglio Comunale, che l'ha addirittura più volte apostrofata il settimo assessore. Dunque, giusto per una forma di rispetto politico-istituzionale, il movimento del Sindaco avrebbe dovuto dire probabilmente la sua, ed invece niente. Un assordante silenzio. Il conciliante civismo si è trasformato nel civico cinismo. C'è per la serie non osare per non sbagliare. Galleggiare sicuramente è meglio che affondare nel mare magno delle faide intestine che dilaniano i rapporti tra i gruppi politici e all'interno dei gruppi stessi del Consiglio Comunale. Il perché di questo comportamento va ricercato o nella ferma convinzione che l'azione del Presidente del Consiglio è stata quanto mai deprecabile e quindi però ci voleva la solidarietà pubblica al consigliere Caloggera Dornetto, che è stato il consigliere offeso. Cosa che è arrivata soltanto dai due gruppi politici di opposizione. O che è veramente un fatto personale tra due persone, dunque, che trascende la politica e come tutti i fatti personali, cosa che ha anche ammesso ai microfoni di Radio CL1 lo Stetto Dornetto, non finisce qui e vanno discussi, sempre nel chiuso di una stanza. Il consigliere chiede il rispetto delle regole da un anno e che non ha visto applicare questo quanto dichiara. Certo è che se la passione civile che anima gli ardori dei rappresentanti, dei cittadini, si animasse piuttosto che verso le questioni di forma, verso quelle di sostanza, ne trarrebbe giovamento tutta la comunità. Piuttosto che assistere ad estenuanti botte e risposta sulle quisquiglie burocratiche del consentito, del valido, del non valido in punta di giurisprudenza, argomenti che dovrebbe gestire l'alta burocrazia quanto ne fosse in grado, magari la prossima volta scriveremo di un sit-in di tutti, proprio tutti i consiglieri per ottenere almeno un'opera di compensazione e la collettività ringrazierebbe.